Il Salernum Il Santamaria parte meglio e arriva al tiro in varie circostanze. Ci provano Salsillo all'ottavo minuto, poi Altieri al tredicesimo, ancora Rota al ventunesimo e infine Angelo Parente al ventiquattresimo senza però mai trovare la via della rete. Al primo tentativo invece il Salernum passa sul cross dalla sinistra, sul pallone si fionda il solito Minella che indovina una sventola dai venti metri per il gol personale numero 43 in questa stagione. La rete ammanzisce i Samaritani che rischiano il gol del K.O. quando Di Bartolomeo si pone bene a polverino dalla distanza. Nella ripresa i casertani cercano il pareggio e dopo il colpo di testa di Verrillo di poco a lato sprecano una clamorosissima occasione con il neo entrato Cantiello che di testa colpisce la traversa a porta vuota dopo il lob di Leccia. Al ventiseiesimo una nuova svolta, Luigi Parente ha munito pochi minuti prima, rimedia il secondo giallo per un fallo a centrocampo ma anziché demoralizzarsi i casertani alzano il baricentro. Il Salernum potrebbe chiuderla in contropiede ma spreca prima di arrivare al tiro e puntuale arriva il colpo della dura legge del gol. Al trentaquattresimo, Valiante si oppone bene al diagonale di Salzillo sul proseguimento dell'azione. Basso colpisce di mano in piena area di rigore, rimediando il rosso diretto. Dal dischetto il 46enne Raimondo fa 1-1. Non accade più nulla fino al triplice fischio quando l'ottimo esposito di Napoli rimanda tutto ai calci di rigore. Sale qui in cattedra l'estremo difensore casertano di Bartolomeo che indossa la tuda di Spider-Man e respinge i tiri di Collina, Polverino e Vigilante. Ai salernitani non basta la parata di Valiante sul Salzillo, dal dischetto per il Santa Maria vanno in gol Pezzullo, Angelo Parente e Cantiello che fa esplodere la gioia di calciatori e tifosi gialloverdi. Grazie a tutti!